La moda torna per le strade di Brescia con la quarta edizione e l'evento 12 B-Mod Moda e Design. Dal 14 al 16 settembre la città diventerà un salotto ricco di colori, abiti e design. Forte del successo ottenuto nelle scorse edizioni, la Kermess dedicata alla moda e al design ripropone anche quest'anno un susseguirsi di appuntamenti, eventi, mostre ed iniziative speciali. Un casting per scegliere la più Marilyn, la figura, la donna che meglio incarna nella fisicità ma anche nell'anima Marilyn Monroe a 50 anni dalla sua scomparsa. Stiamo preparando un casting e la più Marilyn spilerà la serata di gala del sabato con un abito realizzato su misure ispirato a Marilyn. Ci sarà un grande spazio anche per i giovani? Senz'altro spazio per i giovani, l'abbiamo sempre considerato ogni anno per dare appunto l'opportunità a loro di esprimere il loro talento. Studio 7, Studio 7B è un gruppo di giovani che hanno appena intrapreso una loro attività professionale e che avranno l'opportunità di mostrare la loro collezione. Da Piazza della Loggia a Piazza Tebaldo Brusato attraverso tutte le vie del commercio, negozi, stilisti, artigiani di moda e designer. L'evento comincerà con l'inaugurazione alle 16.30, venerdì 14 settembre in corso Garibaldi. Le sfilate dei negozi che quest'anno si svolgeranno in Piazza della Loggia e non più in Piazza Duomo cominceranno venerdì alle 20.30, continueranno sabato 15 alle 18.30, alle 20.30 e termineranno domenica a 16 con l'ultima passerella alle ore 16. Ogni via avrà eventi, il centro storico si trasformerà in una grande passerella. Credo davvero che anche quest'anno l'amministrazione, grazie al contributo di tutti, veramente di tutti, di tutte le associazioni, del Consorzio Brescia Centro, degli artigiani, degli sponsor che hanno permesso anche quest'anno la realizzazione di un'iniziativa che avrebbe dovuto concluderci l'anno scorso perché è inserita nel distretto urbale del commercio, ma noi abbiamo dimostrato che quando un progetto è positivo, quando un progetto è buono, è necessità continuarlo. Per cui il nostro obiettivo è quello di continuarlo e abbiamo dimostrato che anche quest'anno siamo riusciti davvero a creare un palinsesto straordinario, ricco di eventi, valorizzando le professionalità, valorizzando i giovani e credo davvero che Brescia ancora una volta sia una città importante per quello che potrà offrire non solo alla nostra provincia, ma a tutti, veramente tutti quelli che credono nel rilancio anche della nostra nazione. Le sfilate saranno presentate da Elisabetta del Medico, Luca Riva e Dario Polatti. La musica sarà proposta da Radio Vero e Radio Bruno. Tanti altri gli eventi sparsi per le vie bresciane, musica, fotografia, architettura, bellezza e percorsi gastronomici. Come scoprirli? Lasciare l'auto e vivere tre giorni diversi per le vie di Brescia.